Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video spacchettamento Faberlic campagna numero 10 voglio ricordarvi all'inizio proprio di questo video che chi si iscrive entro giorno 19 riceverà in omaggio questo kit di benvenuto di detersivi che comprende detersivo per il bucato colorato, l'ammorbidente e lo smacchiatore quindi vi invito a iscrivervi a Faberlic se volete informazioni io lascerò il mio link sia per autoregistrarvi voi stessi oppure vi lascerò i miei riferimenti su facebook o la mia email per potermi contattare se volete avere dei chiarimenti iniziamo subito con questo video allora sono arrivati i cataloghi della campagna numero 11 in questa copertina molto bella anche qui c'è l'offerta con lo sconto del 70% è interessante questo catalogo con tantissime offerte ecco qua ce n'è un altro poi sono arrivati questi buoni sconto del 50% dove si potranno utilizzare proprio in campagna 11 le persone che riceveranno questo buono potranno prendere un prodotto a loro scelta con il 50% di sconto allora mi è stata ordinata questa padella l'ho presa una anche per me e mi sto trovando benissimo proprio di ottima qualità non si attacca assolutamente al cibo è perfetta questi prodotti nascono in Germania sono certificati hanno proprio certificato che sono prodotti eccezionali e quindi mi è stata ordinata poi vediamo un po' cosa esce da questa scatola allora mi è stata ordinata questa maschera per i capelli perché la persona che l'ha utilizzata si è trovata benissimo e l'ha voluta riacquistare anch'io la sto utilizzando e lascia i capelli morbidissimi è buonissima questa maschera fra le altre cose protegge proprio il colore dei capelli protegge dal sole e dal salserine è perfetta proprio per questa stagione un'ottima maschera questa fra le altre cose era in offerta a 2,69 euro quindi un ottimo prezzo per la qualità di questo prodotto poi un'altra maschera sempre per i capelli questa è invece della linea Salon Care questa è alla caratina se non sbaglio questa altra maschera che è stata ordinata da un'altra cliente questa io non l'ho provata per cui non lo so quella l'ho provata e so che è buona questa non saprei poi mi è arrivato in omaggio da Faberlic questa crema anticellulite da 150 ml della linea Faberlic Expert perché dovete sapere che Faberlic dà degli omaggi grazie ai punti che si accumulano facendo gli ordini quindi ogni ordine che si fa per ogni prodotto c'è un punto che in base al prodotto che è può valere un punto o anche più di un punto e quindi Faberlic ti fa dei regali in questo caso questa crema oltre ad altri regalini che adesso man mano usciranno ve li mostrerò poi mi è stata ordinata questa crema per i piedi nutrizione recupero questa è all'olio d'oliva e questa costava pochissimo vediamo se trovo al volo il prezzo questa crema era su un euro è un euro e 19 un euro e 19 una crema che è veramente eccezionale poi ho preso sempre grazie ai punti di Faberlic queste queste due creme una è la crema da giorno e una crema da notte della linea Oxology e questa è una linea che ha il brevetto Faberlic che ha l'ossigeno eccola qui questa è la prima volta che l'acquisto quindi la utilizzerò però le persone che le hanno utilizzate sono identiche una da giorno e una da notte hanno detto che sono eccezionali quindi creme all'ossigeno particolari quindi ve ne parlerò dopo che l'avrò utilizzata e questo primo sacchetto è finito poi questa magnifica mousse per i capelli questa è eccezionale l'ho utilizzata fa i capelli proprio molto definiti fa proprio ricci e è perfetta anche questa l'ho ricevuta in omaggio grazie ai punti questa è della linea Expert ve la consiglio perché è buona e costa fra le altre cose poco vediamo se trovo il prezzo non lo trovo comunque era sui 2,20 euro una cosa del genere in offerta ok poi vediamo un po' quest'altra custa ecco questi sono dei saponi per le mani che ho ordinato per me allora eccoli sono della linea alla creme questo è al cocco e questo alle mandorle queste sono super profumatissime e sono anche delicatissime per le mani questa linea in particolare è proprio ultra delicata allora vediamo questa cocco eccezionale proprio cocco è vero è proprio cocco viene da berlo a mangiarlo no perché è liquido ma da berlo sì è proprio eccezionale la profumazione buonissima questo ve lo consiglio ed era in offerta 1 euro e 50 1 euro e 49 e 50 vediamo se lo trovo anche questo il prezzo al volo ve lo dico allora 1 euro e 59 anche questa questa invece appunto alla mandorle vediamo mamma mia questo è latte di mandorla proprio di questa stessa linea avevo preso se avete seguito il mio video ho preso il bagno schiuma proprio identico a questo nella stessa linea la crema alle mandorle e sembrava proprio la stessa infatti identica profumazione proprio latte di mandorla e poi questo che cos'è vediamo vediamo qua si è cancellata la scritta in italiano giusto giusto non mi ricordo che è acqua micellare se non sbaglio sempre della linea Xology questa è un'acqua micellare ok questo è il gel per le mani con 70% di alcol e aloe vera questo io lo sto utilizzando ha una profumazione buonissima è 50 ml di gel ed è perfetta per questo periodo dove abbiamo bisogno sempre di disinfettarci le mani di queste credo che ne siano arrivate due infatti eccole qua due sono state ordinare due queste sono costate 1,99 euro ciascuno poi questo dentifricio ha il sbiancamento per i denti al cocco 97% di ingredienti naturali è anche carino il pergi e questo pure è costato poco allora poi questo cos'è vediamo un po' crema per i piedi di notte cura 5 in 1 questo qui pure era in offerta 1 euro vediamo un po' questo era 1 euro allora vediamo un po' se lo trovo 1,19 euro come l'altra praticamente è lo stesso prezzo della stessa linea ok poi questo questo smalto questo smalto che è la colorazione vediamo un po' come si chiama questo colore caramello alla menta il codice è 7364 se per caso qualcuno è interessato ad ordinarlo quindi alla menta un bello questo colore questo mi è stato ordinato poi tre novità che c'erano in questa campagna questi tre smalti che costavano fra le altre cose 1 euro e 70 vediamo 1 euro 1 euro e 79 eccoli qui allora vediamo la colorazione questo smalto quindi per le unghie colore lampone codice 7617 color lampone eccolo quest'altro invece è sempre color lampone quindi sono stati ordinati due della stessa colorazione questo invece è un altro colore vediamo un po' come si chiama allora questo è il codice 7631 non lo dice questo è come si chiama il colore 7631 questa è una tonalità un po' sull'arancione sembra rosa arancione ok poi un po' di campioncini profumi sia da uomo che da donna questi due ordinati io poi che cosa ho ordinato ecco ho ordinato queste salviette che servono per smacchiare sono salviette smacchianti quando li trovate fuori casa queste sono ideale da portare in borsetta e capita di essere al ristorante o a casa di amici e si si macchia la vostra camicia un pantalone qualunque cosa con questa salviettina toglie qualsiasi tipo di macchia chi l'ha utilizzato mi ha detto che sono veramente eccezionali quindi adesso questo l'ho ordinato per me la proverò e vi farò sapere anche di queste poi ok queste le ho avute sempre in omaggio tramite i punti e sono le mie amatissime salviettine struccanti della linea Oxology che non bruciano non irritano gli occhi sono perfette io mi trovo benissimo ne basta solo una per togliere tutto il trucco queste le consiglio costano anche pochissimo poi vediamo qui ci sono altri buoni come quelli che vi ho mostrato prima dei coupon con lo sconto del 50% questo invece è lo scontrino e dovrebbe esserci l'ultima busta eccola qua eccola qui vediamo un po' allora è arrivato questo prodotto che è per detergente per i vetri e specchi e questo è il suo spruzzino questo prodotto non lascia l'oni a una vediamo la profumazione tanto questo è il mio vediamo un po' si è una profumazione anche bellissima delicata non lascia l'oni lascia proprio sia gli specchi che i vetri perfettamente puliti e lucidi questo pure l'ho preso che era in offerta e poi questo mi è stato ordinato questa è una crema per la pulizia delle superfici metalliche questa io la sto utilizzando anche per me e mi sto trovando benissimo pulisce proprio in maniera eccellente l'acciaio tutte le superfici appunto metalliche ne fa in maniera perfetta e lucidissima tornano le cose come nuove e questo costava su intorno al 250 una cosa del genere vediamo 253 euro però è concentrato ne basta pochissimo fa tanta schiuma pochissimo prodotto 250 ml di prodotto ma vi dura tantissimo poi ho ordinato un po' di campioncini da regalare ai miei clienti che comprendono ecco questo qui per pulire il bagno e invece questo qua è un sapone per i piatti al carbone quindi è tutto nero e so che per chi l'ha utilizzato fa i piatti proprio brillanti è ottimo questo prodotto mi hanno detto così ora lo proverò anch'io credo di aver finito sì ho finito non c'è più niente da mostrarvi grazie per aver seguito il mio video ci vediamo presto per un altro video ciao ciao